Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Allora, oggi, come vi dicevo ieri, voglio cercare di fare una sorta di resoconto di quelle che sono state le annate precedenti. Questo è il settimo anno di Allegri come allenatore della Juventus e ci sono state ovviamente delle stagioni di successo trionfali e delle stagioni in cui ci siamo divertiti meno come quella dell'anno scorso e, ahimè, come quella che stiamo vivendo in questa stagione. L'altro giorno Allegri parlava di miglior attacco, miglior difesa, di massimo secondo miglior attacco durante le sue stagioni alla Juventus. Io non voglio andare a guardare questo dato, voglio cercare invece di capire come erano posizionate le Juventus in Serie A dopo 23 giornate sia dal punto di vista di punti, sia dal punto di vista di posizione in classifica, sia dal punto di vista di gol fatti, sia dal punto di vista di gol subiti. Perché voglio cercare di capire se questa situazione nella quale anche Allegri l'altro giorno è tornato su questo passaggio dicendo quando facciamo 1-0 poi facciamo un po' fatica in realtà ad andare a chiudere la partita, anzi tendiamo ad abbassarci e a volte poi può succedere come nel caso del Nant di subire un gol, un altro gol da parte dei avversari, il primo gol da parte dei avversari, magari anche in una prestazione meritata dove tu stavi facendo la partita. Però se non tiri in porta e non riesci a finalizzare il risultato rimane ballerino solo 1-0 è per la delusione dietro l'angolo perché il calcio ci ha abituato mille volte sia sulla nostra pelle in senso positivo sia sulla nostra pelle in senso negativo al fatto che non si ragiona a punti, si ragiona soltanto a gol segnati e gol subiti. Quindi cerchiamo di fare un'analisi specifica dal punto di vista realizzativo in fase offensiva e dal punto di vista difensivo quindi di reti incassate perché voglio capire come eravamo messi nel passato proprio a questo punto della stagione in Serie A lasciando da parte la Champions o l'Europa League in questo caso focalizzandoci unicamente sul nostro campionato. Per vedere cos'è cambiato dal primo ciclo di Allegri al secondo ciclo di Allegri. Per fare questo che cosa ho fatto? Ho utilizzato un sito che è il seguente, mi metto una schermata un po' più comoda, in cui sono riuscito ad andare a ripristinare la classifica alla ventitresima giornata. Questo come potete vedere in alto è la classifica del campionato di Serie A 2014-2015. Primo anno in cui Massimiliano Allegri è diventato allenatore della Juventus e ha utilizzato la Juventus appunto come squadra per iniziare il ciclo vincente dei suoi scudetti, 5 consecutivi prima del suo ritorno. Perché dico questo? Perché secondo me l'Allegri 1.0 è stato un successo, un grande, grandissimo successo. E credo anche che ci siano state delle differenze abissali, da quella che è stata la prima guida tecnica sotto Massimiliano Allegri a quella che invece è l'attuale, con tanti difetti negli ultimi due anni, in cui faccio veramente fatica a trovare qualcosa di positivo. Sono stato tanto contento del primo ciclo di Allegri, tanto quanto sono deluso dal secondo ciclo di Allegri. C'è da considerare ovviamente, lo dico prima di partire, mi sembra ovvio e scontato che le squadre sono differenti. Questa squadra qui, 2014-2015, era la squadra che qualche mese dopo, rispetto alla 23esima giornata di Serie A, andava a giocare a Berlino una finale di Champions League contro il Barcellona. Quindi una squadra che aveva sicuramente un tasso tecnico elevato, dei giocatori di un certo tipo, e quindi sicuramente una squadra differente rispetto a quella di oggi. Però secondo me non basta pensare a quella cosa lì, perché voglio portarvi all'occhio alcuni dati che secondo me fa la differenza, poi ne parliamo verso la fine. Quindi, Juventus, primo posto, 54 punti in 23 partite, 49 gol fatti, 12 gol subiti. Sono numeri importantissimi. Facciamo più di due gol a partita, ok, perché 23 per due fa 46, e subiamo quasi un gol ogni due. 12 gol subiti in 23. Quindi sicuramente la statistica d'eccellenza, quella che vogliono vivere quasi sempre gli anatori, qua si stava andando assolutamente bene, e avevamo una media punti di 2,35 a partita, una differenza reti di più 37. E ribadisco, questa squadra qua, altri mesi dopo, sarebbe andata a disputare una finale di Champions League, quindi sicuramente siamo di fronte a una squadra spettacolare, e i numeri parlano chiaro. 16 vittorie, 6 pareggi, una sola sconfitta. Secondo anno di Allegri, 2015-2016, questo è l'anno della rimonta, e infatti siamo un po' dietro rispetto alla vita della classifica, ma non così tanto, perché poi comunque siamo lì, bene o male siamo lì, e quel sorpasso in quell'annata andrà a concretizzarsi col gol di Zaza al Napoli, proprio sotto San Valentino, sotto febbraio. Quindi 51 punti in 23 partite, 43 gol fatti, 15 gol subiti, più 28 di differenza reti, 2,22 di media punti. Leggermente sotto all'anno passato, ma cosa significa? Che comunque c'era stato anche una sorta di rimescolamento a livello della Rosa, post finale di Berlino, se ne vanno Tevez, Pirlo e Vidal. Non i primi tre che passano, arrivano altri giocatori come Dybala, Mandzukic, Chedira e tanti altri. Quindi la Juventus che deve un attimo riassestarsi, deve ricostruirsi, arriva pure Quadrado, in quella stagione, la prima stagione di Quadrado in maglia Juventus. Dopo un avvio terrificante, Allegri è bravo a trovare la quadra, è bravo a trovare il punto di ripartenza, rimette insieme tutti nel 3-5-2. Inizia un filotto di imbattibilità terrificante, infatti la Juventus in 23 gare va a subire soltanto 15 gol, sono veramente pochi, ne segna 43. Anche qua siamo intorno ai due gol a partita e siamo intorno a un gol ogni due, quindi numeri importantissimi anche al secondo anno che vanno a testimoniare come la Juventus fosse comunque una squadra messa bene in campo, con degli ottimi giocatori, che andava a cercare di azzannare l'avversario, allo stesso tempo cercava di mantenere la porta inviolata. Terzo anno, 2016-2017, l'anno della seconda finale di Champions. Qui, al termine della stagione, andiamo a giocare a Cardiff, e quindi stiamo parlando di una squadra che fa 57 punti in 23 gare, quindi 2.48 di media punti, 19 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte, o viceversa, no viceversa dovrebbe essere, gol fatti 47, gol subiti 16, differenza reti di più 31. Anche in questo caso ragazzi stiamo parlando di, sì, 4 perse e 0 pareggi, stiamo parlando di una squadra che è sopra i due gol a partita, è quasi il miglior attacco in linea, c'è solo il Napoli che fa meglio perché comunque la Juve era vicina alla Roma, è la miglior difesa perché il Napoli si fa più gol ma ne concede anche di più, siamo sempre l'intorno, 16 gol qua nel 2015, eravamo a 15, addirittura nel 2014 c'eravamo a 12, quindi possiamo vedere la costante, la Juventus continua a non prendere gol, ma la Juventus continua a fare quasi due gol a partita, il che ovviamente ci fa piacere perché se non prendi gol e comunque ne fai un paio, vedete che comunque anche i numeri delle altre Juve erano abbastanza in linea, anche in questo caso avevamo il Napoli che comunque aveva una proiezione offensiva maggiore rispetto alle altre e in questo caso qua invece il primo anno la Juventus era pure il miglior attacco, quindi stiamo parlando di una squadra, anche in questo caso una sorta di rullo compressore che vince le partite, vince, domina il campionato di Serie A e va a giocare la seconda finale di Champions. E poi abbiamo la stagione 2017-2018, in questa stagione la Juventus va a prendere fisicamente, dopo aver preso i Guain, va a prendere fisicamente anche Bernardeschi, Douglas Costa e quindi va a formare una squadra di un certo tipo, qui la Juventus alla ventitresima giornata aveva 59 punti, meno uno dal Napoli che sta continuando a fare stagioni incredibili, infatti a me fa sempre un po' ridere quando sento che le Juventus di Allegri avevano vinto in quegli anni perché non c'erano avversari, gli avversari c'erano eccome, il Napoli e la Roma hanno fatto delle annate sempre di ottimo livello e lo stiamo vedendo dato che sono sempre vicini alla Juventus, hanno ottime statistiche, hanno ottimi punteggi, il Napoli quest'anno sta facendo qualcosa di straordinario, ma il Napoli non è il primo anno straordinario che fa, qua sta andando forse anche oltre un po' ogni più rosea previsione, questa stagione però il Napoli si era portato a 60 punti in 23 giornate, stava già facendo un'annata incredibile, la Juventus non mollava niente, rimaneva attaccata al treno con 59 gol fatti e 15 gol subiti in 23 partite, che è tanta roba, 2,57 di media punti più 44 di differenza reti, stiamo parlando comunque di una Juventus in questo caso che ha un potenziale offensivo quasi illimitato, è la miglior attacco della Serie A, non è la miglior difesa della Serie A soltanto perché ha preso un gol in più del Napoli e a meno uno dal Napoli arriverà comunque primo al termine della classifica, questo è l'anno in cui Juventus e Napoli andranno a duellare fino al termine della stagione con Sarri in panchina, il famoso gol di Coulibaly allo Stadium per l'1-0 del Napoli, la famosa disfatta poi di Firenze del Napoli con la Juventus che vince a San Siro, una stagione secondo me molto emozionante, l'anno in cui verremo eliminati dal Real Madrid, dal rigore di Ronaldo dopo il fallo di Benatia su Lucas Vazquez, l'esplosione di Buffon e il rigore non parato da Scesni, però stiamo parlando secondo me di un'ottima stagione, tante volte sento che post Cardiff la Juventus ha perso un po' tutto, Allegri doveva andare, secondo me questa stagione invece è stata ancora un'ottima stagione, una magnifica stagione per la Juventus, non sono d'accordo con questa lettura del post Cardiff, sicuramente si poteva iniziare a riprogrammare in questo momento la Juventus, cercando di fare un po' come si è fatto post Berlino, quindi alcuni giocatori che avevano dato tanto, che avevano magari un'età media alta, da cercare di farli uscire e dare un cambio generazionale, cosa che non è stata fatta o comunque soltanto in parte. Andiamo poi all'ultima stagione di Allegri, qui c'era Cristiano Ronaldo, Juventus che dopo 23 partite ne vince 20, ne pareggia 3 in battuta, 63 punti in 23 giornate, stiamo parlando di numeri clamorosi, 49 gol fatti, 15 gol subiti, più 34 di differenza a reti e 2,74 in media punti, qua veramente ci siamo superati i 63 punti in 23 giornate, solo uno scorre che fa paura, un dominio assoluto, più 11 sulla seconda alla ventitresima giornata di Serie A, stiamo parlando di qualcosa di onestamente assurdo, miglior attacco, miglior difesa, l'anno di Ronaldo è uno degli anni che secondo me la Juventus poteva fare di più, in assoluto una delle Juventus più forti secondo me del ciclo, la più forte probabilmente quella di Berlino, ma quella di Ronaldo, la prima di Ronaldo con Allegri, poteva essere qualcosa che non è stato, siamo implosi sul finale, l'eliminazione in Champions brucia ancora perché si poteva fare sicuramente meglio, e qua iniziano secondo me i primi scricchioli che diventano poi definitivi al termine della stagione con Massimiliano Allegri come allenatore, e infatti secondo me era giustissimo separarsi dopo cinque stagioni giocate in questo modo per cercare di far qualcosa di differente. Ci arriveremo però, prima voglio passare, dopo aver visto questi numeri, quindi Juventus che segna quasi sempre, oltre di un gol a partita, e subisce praticamente sempre meno di un gol a partita, su quello che è stato l'Allegri-Bis. Ripeto, altri contesti, altre squadre, altre Juventus, indubbiamente. Però, c'è un però. L'anno scorso, dopo 23 giornate, la Juventus ha 42 punti, quindi prima avevamo sempre delle medi oltre i due, invece in questo caso abbiamo una media di 1.83. Juventus ha il quinto posto, attualmente addirittura fuori dalla Champions League, con sei pareggi e cinque sconfitte, 34 gol fatti e 21 gol subiti, soltanto più 13 di differenza reti. Ora, già qua abbiamo un'indicazione, un indicatore. Comunque la Juventus non prende tanti gol, ha aumentato comunque il numero di gol che va a subire, perché ha aumentato leggermente la media di gol subiti, siamo molto vicini al gol a partita, in questo caso, il che significa che la difesa sta iniziando a mollare un po' di più, ma soprattutto l'attacco segna decisamente di meno. non siamo neanche lontanamente vicini alla media dei due gol a partita. La media dei due gol a partita è sui 46, mancano 12 gol per arrivare a 46, e non sono pochi. Quindi Juventus che peggiora dal punto di vista della fase difensiva è peggiora decisamente dal punto di vista della fase realizzativa. E questo cosa significa? Che viene tradotto poi in meno punti in classifica, una posizione più arretrata e ovviamente una media punti minore. Logico, banale, ma non lo è, perché comunque la Juventus potrebbe vincere una serie di partite per 1-0, tranquillamente, fare un solo gol, non subire gol, andare a cammuffare, tra virgolette, questi numeri, e risalire in classifica. Abbiamo sempre visto comunque delle Juventus nel primo ciclo di Allegri, e ce lo dicono i numeri, che avevano o davvero il miglior attacco, o il secondo miglior attacco, e aveva la miglior difesa, alla ventitresima giornata. In questo caso invece stiamo vedendo una Juventus che non ha la miglior difesa, non ha il miglior attacco, e non siamo neanche vicini ad averlo. Poi arriva quest'anno, sì, c'è il meno 15, ma è presto fatto, più 15 fa 47, saresti pari all'Inter, a punti, in 23 giornate. Però, anche in questo caso, cioè, la Roma ha fatto 30 gol, noi ne abbiamo fatti 36, la Last 39, diciamo che tra quelle squadre lì, che si trovano in quella posizione, siamo quelle che hanno segnato di meno, diciamo così. E poi i gol subiti, sì, siamo la seconda miglior difesa, perché ne abbiamo presi 17, contro i 15 del Napoli. Però abbiamo il Napoli a 62, che viaggia sulla media dell'anno di Sarri, a livello di punti fatti, e viaggia sulla media della Juventus di Allegri di Ronaldo, del primo anno di Ronaldo in Italia. Quindi, Napoli sta facendo un campionato clamoroso, va riconosciuto, come andava riconosciuto quando li facevamo noi, è assolutamente la squadra che merita la vittoria. Ma noi siamo ancora una squadra che sì, dovrebbe essere al secondo posto, sportivamente parlando, forse potrebbe avere anche addirittura qualche punto in più, perché sicuramente la sentenza ti ha tolto qualche sicurezza in Serie A, e secondo me un paio di partite sono state, tra virgolette, anzi senza virgolette, sono state inquinate da quello che è accaduto in quei giorni lì. Una Juve che era partita male, quest'anno, è come dicevo prima, una serie di vittorie per 1-0, o non solo, perché comunque la vittoria con Inter e Lazio, che sono quelle che ti permettono, bene o male, di rimanere agganciato alla classifica, nonostante la penalizzazione, che sono state delle belle vittorie, quella con l'Inter dopo un primo tempo un po' roccambolesco, quella con l'Azio, è stata bellissima, le altre molto grigie, come vittorie, che nascondevano un po' di polvere sotto il tappeto con il risultato, ma le prestazioni rimanevano altalenanti, però poi i numeri non mentono, se è una squadra che continua a segnare poco, se è una squadra che rispetto all'anno scorso subisce qualche gol in meno, infatti secondo me rispetto all'anno scorso siamo migliorati, ma non è nemmeno quello che io vorrei vedere dalla Juventus. Io infatti credo di essere sempre stato molto coerente con i miei discorsi su Massimiliano Allegri e in generale sugli allenatori. Io credo che il primo anno ci possa essere una sorta di problematica legata a quello che accade in panchina, infatti il primo anno con Sarri avrei riconfermato Sarri, non avrei riconfermato Pirlo, ma non per un discorso legato all'odio Pirlo, anzi io adoro Andrea Pirlo, ma proprio banalmente non mi sembrava un allenatore di Serie A, ancora, non mi sembrava pronto per essere un allenatore, o almeno da Juventus, non mi sembrava pronto, semplicemente. Infatti piacerebbe tantissimo vedere Pirlo che fa carriera e poi torna sulla panchina della Juve a continuare quello slot di vittoria che aveva già iniziato la prima esperienza con Coppa Italia e Supercoppa. E con Allegri l'anno scorso, ve l'ho detto chiaro e tondo, non sono contento, non sono soddisfatto, perché la Juve che non vince, la Juve che arriva al quarto posto in Serie A, la Juve che comunque non mi dà sicurezza né in fase offensiva né in fase difensiva, posso essere soddisfatto, è impossibile essere soddisfatto. Quindi diamo continuità a questo progetto perché sono stati dati quattro anni di contratto, però l'anno prossimo poi voglio vedere dei netti miglioramenti. E dei netti miglioramenti secondo me non ci sono stati a questo punto, anzi si è peggiorato perché sei usciti dalla Champions, sei gironi. Adesso siamo in Europa League, siamo a due giorni dalla partita con il Nant, vedremo se andremo avanti con il Nant, ma in Serie A sì, hai una posizione senza i 15 punti di penalizzazione, sicuramente interessante perché sei al secondo posto, però poi non puoi essere soddisfatto di quello che stiamo vedendo. I numeri te lo confermano. Ragazzi, fino adesso abbiamo visto che nel primo ciclo si facevano praticamente sempre due gol a partita e poi sì, non li subivi nemmeno, avevi comunque delle difese ottime, dei numeri difensivi ottimi, quindi non è che giocavi solo in difesa, giocavi per non prendere gol, ma anche per farlo. La sensazione vedendo gli ultimi due anni di Juventus e guardando anche le statistiche è che invece si giochi veramente per non prendere gol. E poi se lo facciamo ben venga. Perché sono numeri che fanno paura, fanno spavento. 36 gol in 23 partite quest'anno e 34 gol in 23 partite l'anno scorso, dove prendi 21 gol l'anno scorso e dove ne prendi 17 quest'anno, sono numeri non da Juventus. Perché i numeri da Juventus, li abbiamo visti, sono 49 gol fatti e 12 subiti in 23 partite, sono 43 gol fatti e 15 subiti in 23 partite, sono 47 gol fatti e 16 subiti in 23 partite, sono 59 gol fatti e 15 subiti in 23 partite, sono 49 gol fatti e 15 subiti in 23 partite, non sono 34 e 36 o 21 e 17, quanti ne abbiamo presi? 17. Non sono questi. Punto di vista difensivo, quest'anno si sta andando bene, siamo in linea con quegli anni lì, punto di vista offensivo non ci siamo. Non c'eravamo l'anno scorso, non ci siamo quest'anno. Ed è la cosa che veramente mi fa dire ragazzi non stiamo vivendo delle buone stagioni, non è così, non è così. Quindi sì, difensivamente probabilmente abbiamo aggiustato qualcosa, non è che se aggiustiamo difensivamente possiamo fregarcene poi di fare gol, perché abbiamo visto già in questa stagione c'è la statistica preoccupante che ha messo anche Allegri, ci stia lavorando, ci stiamo interrogando, se la Juve subisce gol, poi non vince la partita. Soltanto due volte, fino adesso in oltre 30 partite disputate dalla Juventus, due volte che hai subito gol, sei poi riuscito a vincere. Perché? Perché non fai gol. La risposta è banale, perché non fai gol, non fai abbastanza gol. Non sei in una squadra in grado di fare abbastanza gol. Non lo sei. E quindi questi sono problemi e qui, per forza di cose, serve la mano dell'allenatore che in questo Allegri bis non si è vista. Non si è vista. Come per me si è vista tantissimo nell'Allegri 1.0. Non è il nome Allegri che fa la differenza, no, è il lavoro in campo. Riconoscente a quello che ha fatto Allegri nel primo ciclo, delusissimo, da quello che sta facendo Allegri in questo secondo. Per dover di cronaca, le Juventus di Sarri, 23 partite, 54 punti, 44 gol segnati, 23 gol subiti, quindi in linea anche qua, dal punto di vista offensivo, con i gol fatti, quindi praticamente due partite. Ha subito bastanza gol, infatti siamo sui 23 subiti, in 23 gare, e questo sicuramente poteva essere un campanello d'allarme. Poi ovviamente ricordiamoci che questa è stata una stagione un po' particolare con Sarri che all'inizio aveva la polmonite, poi c'è stato il Covid, quindi cose un po' bizzarre. Poi a sorpresa c'è quella di Pirlo e dopo 23 giornate la Juventus aveva 48 punti, prima Sarri ne aveva 54, quindi Pirlo ne aveva 6 in meno, però i numeri erano assolutamente migliori dal punto di vista realizzativo, perché in 23 partite aveva fatto 46 gol e in 23 partite aveva subito i 20. Quindi difensivamente sull'onda del gol a partita si poteva subire qualcosa di meno, dal punto di vista offensivo la Juventus era il quarto miglior attacco alle spalle di Inter e Napoli, però sicuramente una squadra, scusate, di Inter e Roma e Napoli, quarto attacco, ma sicuramente una squadra che era in grado di fare male, una squadra che era in grado di regalare pericoli ed emozioni ai tifosi, poi però serve anche la continuità. Vedete come si fa fatica, cioè parlare di calcio basandosi sui numeri è impossibile, no? Perché ci sono dei numeri magari che ti stanno dicendo guarda, stai andando fortissimo, però poi le partite le perdi tutte 1-0 e quelle che vinci le vinci 4-0, però ne hai perse 5 per 1-0. Quindi è un insieme di situazioni. E per arrivare a queste situazioni io lo dico sempre, io sono un risultatista, perché per me il risultato è la cosa più importante, soprattutto a questi livelli, perché poi, per dire, io gioco a livello amatoriale del risultato, sì, mi importa, ma non è quello per cui gioco, gioco perché mi diverto, gioco per la compagnia, ma a questi livelli la Juventus è fatta per vincere, lo dice la storia della Juventus, quindi per me il risultato a questi livelli è importantissimo, è la cosa più importante, è quello che rimane nella storia, è quello che ti fa anche cambiare un giudizio, però non sono un risultatista puro, non è che dico abbiamo vinto, mi va bene, tutto il resto fa lo stesso, no, perché per arrivare ai risultati, per arrivare a ottenere i successi, bisogna passare per forza di cosa dalle prestazioni, e le prestazioni cosa ci stanno dicendo? Che in questi ultimi due anni, perché prendo in considerazione l'Allegribis, non si sta andando bene, non si sta andando bene, e i numeri sono qui a testimoniarcelo, i numeri sono qui a dircelo, la classifica è qui a dircelo, gli obiettivi stagionali sono qui a dircelo, perché fuori dalla Champions non è sicuramente qualcosa di positivo, e quindi vi chiedo, alla luce di tutte queste tabelle che abbiamo osservato, di questi viaggi nel passato, e sicuramente anche di valori di rose da dosare, da mettere in preventivo, perché non si è mai giocato con la stessa rosa, comunque nessuno degli anni, sono state sicuramente squadre più forti, squadre più scarse, però alla fine della fiera, guardando un po', quello che mi viene a dire è, sì, sicuramente abbiamo squadre più scarse, rispetto al primo ciclo dell'Allegri, questo penso che sia fuori discussione, la mano dell'allenatore magari si vede, dal punto di vista della fase di non possesso, dal punto di vista della fase difensiva, ma in questo momento, da parte dell'allenatore, non vedo assolutamente mano, dal punto di vista della realizzazione, anche l'altro giorno, l'Allegri c'è doveva migliorare la finalizzazione, però per migliorare la finalizzazione, che è il discorso che facevo prima, per arrivare al risultato serve la prestazione, quindi per arrivare alla finalizzazione, serve la costruzione, e anche qua siamo abbastanza carenti, serve fare qualcosa, e qualcosa lo può fare soltanto l'allenatore, anche chiedendo alla squadra di non abbassarsi, fare in modo che non si abbassino, fare in modo che rimangano alti, dopo aver segnato un gol, perché l'abbiamo visto, un gol per questa squadra non è sufficiente, lo dice il campo, e lo dicono i numeri, basta guardare la classifica.